Lirico Content Autotagging La nostra soluzione si chiama Lirico Content Autotagging e permette di taggare, quindi di abbinare parole chiave in maniera completamente automatica ad ogni tipo di contenuto quindi slide, pdf, ma anche immagini e video. Infatti l'azienda farmaceutica Organon ha scelto Lirico Content Autotagging per gestire tutti i suoi materiali promozionali permettendo al marketing e ai commerciali di trovarli in modo semplice attraverso parole chiave, di tracciare quali sono i contenuti condivisi sui diversi canali e abilitare i suggerimenti di next best action sul contenuto. Grazie alla nostra soluzione Organon ha risparmiato tantissime ore di lavoro manuale evitando anche errori di compilazione e migliorando quindi l'efficienza del marketing dell'azienda. Ad oggi sono stati taggati circa 17.000 materiali promozionali in diverse lingue. La soluzione è innovativa perché utilizza il Natural Language Processing che permette di avere un'accuratezza del processo di tanking molto elevata circa il 98%. Permette di processare qualsiasi tipo di contenuto multimediale quindi anche video e audio vengono prima trascritti in testo e poi taggati. In ultimo utilizza una tassonomia creata ad hoc per il settore che eventualmente può essere anche personalizzata su esigenze del cliente. La soluzione è facilmente scalabile basta connettere i repository dove risiedono i contenuti ad esempio Organon è operativa ad oggi su 60 paesi a livello globale però oltre al settore pharma l'irico content autotagging può essere applicabile a tantissime altre aziende basta che abbiano la necessità di trovare una soluzione che gestisca in modo efficace e innovativo i contenuti. Grazie a tutti.